Tony Stark è diventato popolare soprattutto grazie alla sua incarnazione cinematografica, ma per i fan Marvel è da sempre un pezzo di storia del fumetto internazionale. A breve si aggiungerà anche al mondo videoludico con Marvel's Avengers, in cui Iron Man sarà chiamato a rimettere insieme i Vendicatori e guidarli contro i pericoli che minacciano la Terra. Per l'occasione abbiamo quindi deciso di ripercorrere la storia editoriale di Tony Stark, dalle origini fino ad oggi. L'esordio di Iron Man sulle pagine di Tales of Suspense 39 nel 1963 avviene a otto mani. Arrivando dopo Spider-Man, l'eroe di quartiere in difesa dei poveri, Stan Lee e i suoi collaboratori creano un personaggio più alto nella scala sociale. Prima dell'eroe nasce quindi un imprenditore, intento a lucrare sulla produzione di armi. Una vita perfetta, quella del giovane Anthony Edward Stark, figlio del magnate Howard e di sua moglie Maria. Un genio che, a soli 15 anni, frequenta il MIT conseguendo diplomi e master in ingegneria e fisica. Soltanto in tempi editoriali più recenti si scopre che Tony nasce in Bulgaria da due agenti SHIELD, Jude e Amanda Armstrong. Ma quando l'Hydra minaccia la sua famiglia biologica, viene adottato da Econiugi Stark. Anthony eredita la compagnia alla morte di Howard Stark, traghettandola verso un futuro di successi. Quando si parla di continuity Marvel, tuttavia, è opportuno ricordare che le avventure vanno sempre contestualizzate col periodo storico di riferimento. Iron Man è un esempio perfetto. Negli anni 70, l'armatura nasce in una grotta vietnamita, ma dal nuovo millennio le origini del Vendicatore vanno collocate in Afghanistan. Il racconto è sempre il medesimo. Tony finisce pergioniero durante una visita ad una base militare e rimane gravemente ferito a causa di un attacco terroristico. Il suo cuore viene invaso da una miriade di schegge metalliche, ed è solo con l'intervento del compagno di cella, il dottor Ho Insen, che sopravvive. Insen, infatti, posiziona una lastra magnetica nel petto di Stark, così da rallentare i frammenti. Obbligati a costruire armi di distruzione di massa, i due ne approfittano per dar vita ad un micidiale esoscheletro di ferro, che viene indossato da Tony permettendoli di scappare, mentre il suo salvatore perde la vita nella fuga. Monitorando costantemente la placca magnetica nel proprio petto, Tony evolve l'armatura. Gli orrori della guerra l'hanno sconvolto e, per onorare la memoria del suo amico Insen, decide di combattere il crimine e il terrorismo col nome di Iron Man. Non tutti sanno che tra i suoi primi avversari ci furono Occhio di Falco e la Vedova Nera. I due futuri Avengers, infatti, erano inizialmente spie al soldo dei russi, e quindi nemici naturali di Stark. Proprio come nell'universo cinematografico, già all'inizio della sua storia si accerca di alleati. Il marine James Roddy Rose, conosciuto durante la prigionia e futuro War Machine, l'assistente Pepper Potts e la guardia del corpo Happy Hogan. Quasi sempre i nemici di Tony sono signori della guerra. Il suo più grande avversario, ad esempio, è il Mandarino, che si rivela il mandante della sua prima cattura. Ad aggiungersi alla lista troviamo potenti imprenditori che bravano la tecnologia Stark. Tra i primi avversari di Iron Man figurano anche Justin Hammer e Obadiah Stane. Il primo prosciuga i rifornimenti di armi della Stark Industries per finanziare il mondo criminale, ma viene presto sconfitto. Il secondo, invece, si rende protagonista del primo grande crollo emotivo di Tony. Stane, infatti, si impossessa dalla compagnia e riduce Stark al rango di una senza tetto. Questi due eventi scatenano nell'eroe una dipendenza da cui sarà difficile uscire l'alcolismo. Distrutto nello spirito, l'ex uomo di ferro lascia l'armatura a Rodei e si trasferisce nella Silicon Valley. Ma quando il compagno si trova in pericolo e gli atti terroristici diventano sempre più sanguinari, Iron Man torna con una nuova marca. Tutto si conclude con la morte di Obadiah, che si suiciderà per non essere catturato. Tony Stark è uno dei membri fondatori degli Avengers e, insieme a Capitano America, ne sarà sempre il co-leader. Eppure, il suo rapporto con i Vendicatori, così come con lo SHIELD, non è sempre stato idilliaco. Tra gli anni 80 e 90 prende vita un ciclo narrativo intitolato La Guerra delle Armature, in cui il criminale Spy Master ruba i progetti della poderosa Marche e li rivende al mercato nero, mettendo la tecnologia a servizio della malavita. L'esclusione dai Vendicatori e la nomea di pericolo pubblico sono soltanto l'inizio di un cammino tragico. L'interfaccia cibernetica utile per usare l'armatura deteriora progressivamente il sistema nervoso di Tony ed in seguito rimane paralizzato a causa di un attentato ad opera di una sua ex fidanzata. Solo l'implementazione di un chip nella sua spina dorsale gli permette di recuperare le funzioni motorie e sconfiggere il vero artefice di tutto, Kirsten Dewitt. Successivamente, la rottura avviene persino con l'amico Rodey. Stark è costretto a porsi in un sistema di animazione sospesa per arrestare il danno al sistema nervoso, lasciandola Stark Enterprise e James senza dirgli nulla. Una volta guarito e risvegliato, Rhodes decide di diventare un supereroe solitario, sfruttando una nuova armatura. È la nascita di War Machine. Il riavvicinamento con gli Avengers avviene in circostanze ancora più drammatiche durante The Crossing. I Vendicatori affrontano Kang, il Conquistatore, un essere capace di manipolare il tempo. Controllando la mente di Stark, il villain uccide la figlia di Quicksilver e Crystal. Credendo che il compagno sia ormai compromesso, gli Avengers viaggiano nel tempo per recuperare una versione più giovane di Tony. Alla vista del suo alter ego, Iron Man riprende il controllo e si sacrifica per sconfiggere Kang. Il giovane Tony rimane nel presente per sostituire quello vecchio, ma perde la vita a sua volta contro Onslaught. La continuity classica viene ripristinata da Franklin Richards, figlio di Mr. Fantastic. Il giovane, in grado di manipolare la realtà, ressuscita i caduti in un micro-universo per poi riportarli alla loro realtà. Dopo essersi riappacificato con i suoi vecchi compagni, Tony Stark rientra tra le fila dei neonati New Avengers. Il nuovo millennio segna la rinascita di Iron Man, che diventa una delle colonne portanti dell'intero universo Marvel. Sono anni di nuove scoperte scientifiche come il Siero Extremis, che gli permette di sviluppare nuove capacità di controllo per le sue armature. La sua intelligenza sconfinata lo porta a fondare gli Illuminati, un gruppo di menti straordinarie nato per difendere strategicamente la Terra, e in cui troviamo anche Black Panther, Xavier, Mr. Fantastic, Dr. Strange e Namor. Contemporaneamente, Stark e i suoi compagni iniziano a far parte dei grandi eventi Marvel. La prima fase dell'era moderna è scandita dal rapporto di amicizia e rivalità con Capitan America, che esplode con violenza in Civil War. Lo schieramento di Tony a favore del lato di registrazione dei superomani e contraposto a quello di Steve rappresenta uno degli scontri più famosi nella storia dell'intrattenimento. La fazione di Iron Man ha la meglio, Tony diventa il nuovo direttore dello SHIELD e affida la leadership dei Vindicatori a Carol Danvers, mentre Cap viene arrestato. Prima del processo, purtroppo, Rogers viene assassinato e questo evento provoca un grande cambiamento in Stark. L'altro momento fondamentale arriva nel 2010 con Secret Invasion, l'invasione degli Skrull che si insidono nella società umana grazie alle loro capacità muta forma. Stark è uno dei primi eroi a scoprire che, per anni, diversi membri degli Avengers e degli Illuminati erano in realtà Skrull sotto copertura, mentre gli originali erano stati irrapiti. Lo scontro finale è violento, ma è soltanto con l'intervento di Norman Osborn che la regina Skrull viene annientata del tutto. Il governo USA in seguito toglie a Stark la direzione dello SHIELD e leggendo al suo posto proprio Osborn. Il villain di Spider-Man, diventato uno degli uomini più potenti del pianeta, ribattezza la compagnia Hammer, assume l'identità di Aaron Patriot e fonda i Dark Avengers. È l'inizio del Regno Oscuro. Nell'arco narrativo Dark Reign, gli eroi sono ridotti in clandestinità dai Vindicatori Oscuri di Osborn, ma la furbizza di Stark riesce a prevalere. Davanti ad una schiera di giornalisti, Tony si induce volontariamente una lesione cerebrale e manda su tutte le furie Norman. Il villain, sapendo di perdere le conoscenze della mente di Stark, inizia a picchiarlo violentemente fino a ridurlo in coma. Tutto questo in mondo visione. Infine, alle porte di Asgard, i Vindicatori affrontano Osborn e i suoi alleati, sconfiggendolo. Una volta ristabilito lo SHIELD, Tony sposta la sua azienda nel campo dell'energia pulita. In questi anni costruisce un'armatura chiamata Blade & Edge, collegata al suo cervello e affronta i discendenti di Justin Hammer. Il grande rilancio editoriale nel ciclo di All New All Different ha sancito un passaggio di testimone importante. Tony è tornato interamente in sé e sfrutta la nanotecnologia per potenziare ulteriormente le sue armature. Ha una relazione con la dottoressa Amara Perera, scopre la verità sui suoi genitori e conosce il vero figlio degli Stark, Arno, che da alleato si trasforma presto in avversario. Civil War 2 è un altro grande passo nella vita dell'Uomo di Ferro. La neonata rivalità con Captain Marvel raggiunge vette tematiche davvero interessanti. Tutto ruota intorno ad un inumano chiamato Ulysses, che sviluppa un potere in grado di prevedere il futuro. Dopo aver assistito impotente ad un attacco di Thanos, Carol Danvers dà vita ad uno stato di polizia basato sulla prevenzione al crimine. Sorprendentemente è proprio Stark ad opporsi conscio degli errori del passato. La seconda Civil War si conclude con la vittoria di Captain Marvel e la morte cerebrale di Tony. Prima di ispirare, Stark trasmette la sua coscienza in una intelligenza artificiale virtuale, che passa nelle mani della giovane Riri Williams, una geniale 15enne afroamericana da tempo osservata da Iron Man. In seguito ad un esperimento fortuito che le permette di collaudare un'armatura simile alla marca, Riri accoglie pienamente l'eredità di Tony. Guidata dall'intelligenza artificiale con la coscienza di Stark, la giovane assume l'identità di Iron Heart ed entra nei Vendicatori per poi staccarsene e fondare i campioni insieme a Miles Morales e Nova. Iron Heart continuerà ad esistere anche dopo il ritorno in vita di Tony, che riprende il ruolo di Iron Man e ricostruisce i Vendicatori, insieme a Steve Rogers, Thor e altri volti noti dopo i tragici fatti di Secret Empire.